Musica Musica Nei contesti scolastici attuali e futuri, quali sono i valori che la pedagogia interculturale promuove? La prospettiva interculturale in educazione attribuisce valore alle conoscenze legate alla tradizione, ma anche alle conoscenze più innovative e più proiettate verso il futuro. Educa ad apprezzare le conoscenze locali, ma anche quelle di altri paesi del mondo. Attribuisce valore alle credenze, ai simboli, alle norme radicate nei territori dove i gruppi umani in migrazione hanno vissuto per alcuni anni delle loro esistenze cioè i paesi di emigrazione ma ritiene che debbano essere valorizzati e non stemperati le credenze i simboli, le norme radicate nei territori dove si concludono quei percorsi di migrazione, cioè i paesi di approdo. La prospettiva teorica del pensiero interculturale in educazione valorizza e trasmette l'idea della connessione. La possiamo intendere come un'idea programmatica e metodologica da declinare e trasferire nelle scelte educative e didattiche in tutti gli ordini di scuola. Ma come si fa a trasmettere agli allievi e agli studenti concetti complessi per la cui comprensione sono necessarie conoscenze e categorie di pensiero elevate che sono appannaggio degli adulti, come quello di connessione fra culture diverse? Gli insegnanti e gli educatori hanno a disposizione molte possibilità. Spesso il primo passaggio pedagogico utile consiste nell'osservare, conoscere, comprendere la varietà della classe e di seguito abituarsi a fare delle scelte che sono metodologiche, relazionali e relative ai contenuti. Si possono utilizzare tanti strumenti narrativi come i testi antologici, storie vere, interviste, fumetti, romanzi, documentari, film, testi di canzoni, in italiano, in inglese e anche in altre lingue europee o lontane e proporre, a partire da essi, varie attività da fare insieme in classe. La lettura ad alta voce è molto utile. Infatti, grazie ad essa, è possibile emozionarsi, stupirsi, indegnarsi insieme, docente e allievi, e conoscere alcuni aspetti della realtà multiculturale nella quale viviamo. Inoltre, la lettura può dare avvio a opportune brevi discussioni, conversazioni, dialoghi, momenti di silenzio, riflessioni interiori, confronti. Un altro strumento didattico utile per far comprendere agli studenti il concetto di connessione fra culture è quello di individuare, nelle diverse aree disciplinari, contenuti didattici che siano orientati non al conflitto, ma alla collaborazione e alla connessione fra esseri umani, fra popolazioni, fra storie di vita, fra punti di vista, e che rappresentino dei modelli reali per gli allievi e gli studenti. Inoltre, il docente può mettere in atto in classe alcune modalità relazionali che non inducano gli studenti a creare barriere fra di loro, ma semmai facilitano la conoscenza reciproca e il dialogo nei gruppi dove convivono allievi che parlano lingue diverse. Per esempio, la metodologia del cooperative learning, il lavoro per gruppi, il metodo per progetti, la flipped classroom. Un terzo strumento didattico che il docente può utilizzare per trasmettere agli studenti l'idea di connessione è quello di progettare e realizzare percorsi didattici con metodologie idonee ad affrontare le tematiche delle migrazioni e che aiutino coloro che sono più indietro, solo per il fatto di non conoscere la lingua, a stare al passo con gli altri. Niente vieta, per esempio, che si possano utilizzare anche temporaneamente mezzi espressivi diversi dalla lingua italiana parlata e scritta, per esempio il disegno, l'arte, l'arte figurativa, la musica, le attività manuali, anche la danza, in occasioni laboratoriali ben progettate e valide per il futuro. Ecco, detto questo, cerchiamo di capire ora in che senso i testi di narrativa possono diventare strumenti della pedagogia interculturale. Si è detto che la narrativa, nelle sue varie forme, consente di conoscere le caratteristiche di vita e le differenze che connotano i diversi gruppi umani. Racconta la vita in paesi diversi e in tempi diversi e racconta altri modi di vivere. Attraverso le storie narrate i ragazzi possono scoprire analogie e somiglianze fra luoghi, fra persone, fra tempi diversi. Possono conoscere i sentimenti, le emozioni, gli stati d'animo, così come sono stati raccontati da narratori, romanzieri, cantautori, registi. A questo proposito lo scrittore Jonathan Gottschall esprime in modo un po' ironico ma certamente corretto l'importanza del raccontare storie nell'evoluzione umana, nell'evoluzione della specie umana. Scrive Jonathan Gottschall Immaginate che ci siano due tribù umane che vivono insieme, che vivono vicine in qualche vallata africana. Queste due tribù sono in competizione per le stesse risorse che sono scarse. Una tribù gradualmente è scomparsa, l'altra si è diffusa su tutta la terra. Una tribù si chiamava della gente pratica, l'altra si chiamava della gente della storia. Entrambe le tribù cacciavano, lavoravano, raccoglievano, nutrivano i piccoli e quando non lavorava la gente pratica si stendeva per terra e si riposava. Invece la gente della storia si metteva seduta in una zona del villaggio, si raccontava delle storie divertenti e si raccontava gli avvenimenti accaduti durante il giorno. Ecco, conclude Jonathan Gottschall, sappiamo come è andata a finire, la gente della storia ha avuto la meglio, la gente della storia siamo noi per l'appunto. ecco, detto questo torniamo al nostro, alla nostra didattica di classe e definiamo meglio questi concetti con un esempio. usiamo un testo di un autore che è allo stesso tempo autore della storia e dei disegni si chiama Armin Greder è un autore tedesco e il libro da cui partiamo da cui prendiamo le mosse si intitola L'Isola è un testo di qualche anno fa un testo del 2002 pubblicato in Italia dalla casa editrice Orecchio Acerbo di Roma addirittura nel 2014 ecco ed è un testo che per molti versi ha anticipato in modo quasi profetico le difficoltà e le contraddizioni che oggi sono sotto gli occhi di tutti noi adulti ragazzi appunto che riguardano le migrazioni attuali e la scelta dell'autore cioè di Armin Greder è basata sull'amplificazione dei significati sull'amplificazione dei dialoghi e delle immagini attraverso l'uso lessicale e figurato dell'iperbole l'iperbole come sappiamo è una figura retorica e in questo testo è proprio utilizzato volutamente dall'autore cioè Armin Greder porta all'eccesso porta alle estreme conseguenze le azioni dei protagonisti dei personaggi e mostra ai giovani lettori che la storia che hanno fra le mani rappresenta proprio un'esagerazione un'esasperazione della realtà e dunque proprio per questo non è da imitare l'isola si rivolge a studenti a ragazzi diciamo dai 12 anni in su anche per tutto ragazzi fino a 17 18 anni ecco dunque che la vicenda narrata illustrata diventa proprio uno strumento pedagogico perché perché trasmette alcune scelte etiche corrette e alcuni punti di vista sul mondo che poi spetterà ai ragazzi a ciascuno di loro con un processo di interiorizzazione che è tutto individuale non di gruppo accogliere e fare propri senza forzature da parte dell'insegnante o da parte dell'educatore in altre parole è l'iperbole stessa a fare da leva per scardinare i pregiudizi o per evitare che si creino nelle giovani coscienze in formazione parliamone brevemente di questo libro la vicenda narrata nel libro l'isola è assolutamente minimale ma molto toccante parla di un naufrago che arriva su un'isola accolto con ostilità e sospetto dagli abitanti nel gruppo esiguo degli isolani il suo arrivo sulla spiaggia scardina le abitudini e le certezze di tutti questo li rende ostili nei suoi confronti e il loro atteggiamento non cambia col passare del tempo gli uomini e le donne dell'isola diventano sempre più minacciosi nei confronti dello straniero vogliono rimandarlo subito indietro ma poi ascoltano il parere di uno dei membri del gruppo che consiglia di tenerlo per non avere la sua morte sulla coscienza dunque lo straniero rimane ma in una situazione di reclusione e di invisibilità tuttavia anche così quell'esperimento non funziona ciascuno degli isolani ha qualche critica da fare e a parere di tutti quell'individuo sconosciuto possiede abitudini abilità capacità manuali così diverse dalle loro che se gli fosse affidato un qualsiasi lavoro lo eseguirebbe male anche i lavori più umili più semplici più terra terra gradualmente la sola presenza dell'uomo sull'isola diventa un'ossessione per tutti gli isolani al punto che l'unica soluzione possibile appare essere quella di tenerlo ancora ancora di più prigioniero ancora di più recluso ma appunto come dicevamo prima paradossalmente Greder usa proprio l'iperbole perfino questa situazione di prigionia completa non basta ad allontanare le paure che la sua presenza incute e dunque la deliberazione comune è quella di condurre l'uomo alla sua zattera e di spingerlo in mare e per evitare ulteriori future possibili contaminazioni gli isolani decidono di costruire un muro molto alto intorno all'isola e la conclusione proprio la frase conclusiva è questa costruirono un muro altissimo tutto intorno all'isola aveva delle torri da cui si poteva sorvegliare il mare giorno e notte poi uccisero i gabbiani e i cormorani che passavano in volo perché nessuno potesse sapere la fuori dell'esistenza dell'isola la narrativa costituisce uno strumento pedagogico potente da utilizzare con allievi di tutte le età in questo caso con studenti delle scuole medie e delle scuole superiori scuole secondarie di secondo grado l'isola può rappresentare un punto di aggancio e una buona opportunità per far arrivare ai ragazzi un concetto complesso come quello di frontiere chiuse sappiamo che soluzioni di questo tipo cioè chiudere le frontiere agli arrivi dei migranti oltre ad essere non rispettose dei diritti umani sono anche contrarie alle regole dell'economia secondo una ricerca condotta da due studiosi cioè allievi e dalla zuanna uno è un sociologo e l'altro è un demografo se per ipotesi oggi i paesi ricchi del mondo chiudessero le loro frontiere nel giro di vent'anni i loro abitanti in età lavorativa passerebbero da 753 milioni a 664 milioni con una diminuzione enorme ogni anno e anche per quanto riguarda l'Italia questa diminuzione sarebbe assolutamente negativa i ragazzi devono essere messi a conoscenza del fatto che la presenza di immigrati è necessaria anche per integrare la forza lavoro una questione che attualmente riguarda i loro genitori ma che in un futuro prossimo riguarderà loro stessi l'idea di chiudere le frontiere come fanno gli abitanti del libro l'isola non è né buona né saggia il pensiero interculturale in educazione fa sua la convinzione della non umanità e dell'inutilità dell'alzare muri molti giovani insegnanti che si affacciano in questi anni alla professione docente magari trascorrono alcune settimane nelle classi per un terucinio o per una supplenza incroceranno sempre più di frequente adolescenti e bambini che sono arrivati da soli da paesi stranieri sono ragazzi che vivono nei centri di accoglienza che hanno alle spalle storie diverse e una vita nella quale hanno assunto ruoli lontani da quelli che in occidente siamo abituati a considerare idonei per la loro età l'interculturalità prima di essere un rapporto fra culture è un rapporto fra persone e i docenti dovrebbero guardare gli studenti con occhi attenti senza dare per scontata la loro presenza e oltre che all'interno della classe i docenti e gli educatori dovrebbero anche guardare intorno alla scuola ascoltare comprendere agire consapevolmente appunto anche al di fuori della scuola e anche uscire insieme con i ragazzi dai luoghi educativi capire che cosa c'è fuori della scuola nel quartiere dove la scuola si trova per esempio tanti istituti tecnici si trovano proprio nelle periferie delle città è importante abituarsi a essere empatici sapendo che la capacità empatica non è innata ma va appresa e costruita un po' per volta abituarsi ad affinare la sensibilità cercando di cogliere parole pezzi di vita quando si è in classe nelle situazioni didattiche e in quelle meno formali devono infine non sottovalutare le possibilità contenute nelle normative non sottovalutare la sensibilità non sottovalutare non sottovalutare grazie a tutti